Metti quel bel quadro Ma fai che bello qualche oddio Ma stai a registrare? Regna! Mario se è meglio che blu eh Vai via allo scelto Via allo scelto non dica pa Stai a... Stai in diretta eh Saluto i amici che ti hanno salutato in piazza dio cane Dove stiamo? Prima di tutto aspetta Che c'è lo risolto? Aspetta oh Siamo a PEC Valentino Squatch Già ci siamo stati Fa una tetica Granchio farà una tetica ai nostri amici Quelli della piazza del popolo Io l'unico che non c'ero Eh vabbè però appunto A nome di tutti i Verzeca qui presenti Ecco li presenti Qui è Mike Questo bello Mike Marco Bimbo Crash Bimbo Malvo E Granchio Malvo Vabbè si dai di un po' fai la tetica Vi ringrazio tanto dei saluti che avete fatto a questi miei compagni fidati A continuare a seguirci Bella l'unica cosa a quelli Bella non ti vado a sentire Voi si danno sta fossa Ecco non lasciatevi Tipo commetti come patto dio Allora E adesso Illustraci questa situazione Praticamente Mike ha trovato questo piccolo randello Che sarebbe all'incirca alle dimensioni del cazzo di Adebayor E' mio anche Eccolo E faccia vedere le funzionalità di questo bastone come nell'epoca primitiva Ancora Un'altra funzionalità Questa La gente vuole sapere che cosa può fare con questo bastone Perciò Chiaramente Dio Metti tanto nel culo sto coso Porco do Ma non è il ritorno di venti denti Ma non c'è la forza in culo Cosa COCCO guardate dove lo vanno? insomma si vedeva un record olimpico dovevo andare all'altra staccionata vai sei tecnico porco dio si vede qua sopra vai cranchio si vede qua sopra regna, allora tu li riprendi no 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 porco dio si insomma sei con le mani sicure è blu non si vede un cazzo aspetta vabbè Marco ecco il rosso vai vai questa è una ripresa diretta dalla giostra le montagne russe insomma gira sta giostra le montagne russe addio eccolo ripresa ottica insomma ha maniato che cazzo vomito le palle due questa è una ripresa diretta ce l'hai dell'acendino si magari con l'acendino i sigari dai 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 dammelo non ce l'hai uo dai do vendors vediamo che qui aiutatemi cosa qua oo ma quella di mercega solo marco si esclude giudicandosi la mia fiducia in merita è una ripresa stramba non si capisce nulla questo lo fai umilare sei quel cazzo dai vai vai questa è una ripresa stramba guarda in diretta guarda che bello guarda che bello sembri uno che sta cuore a palla guardalo vai vedo un po' come sta oh porco dio dai dammelo accendino io ce l'ho dai con che l'hai accesa con l'accento i sigari porco dio cane porca madonna si è piccato guarda che bello guarda quest'altro si insomma lava che non si sporcaranno i bambini il culo insomma non andrà a fine per terra cazzo non sono un cane perché c'è un appalanchino comunemente usato dagli antichi comunemente usato dai moratori per essere lanciato con piccola aspetta sto bastardo dove vuoi fare una cosa a me ah dai bastardo sai cosa vuoi fare a me forza porco dio mi inquadra che sei a fa aspetta non si vede un cazzo aspetta fammi fare una ripresa la degli adesso è bastardo vuoi fare una cosa a me lo so si insomma dai porco dio non fate i cani no che schifo dai che schifo che c'è stato tutta l'acqua porca madonna porco dio non è bagnato non è non è non è che c'è stato dentro porco dio oh 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 no qua si vede insomma sei un tipo carino meravigio no porco dio la mia macchina vai a passare il dino ancora oh porco dio oh dai toxico tutta era tutta isia insomma sta faccio lavoro e is self locano muestra ancora alcun dio ce li hai inviato io non è inter 3 guarda che bellini se eh oh salutate dark grande dark d'accordo mike mike dark 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 corra dark dai che devi tornare sono tutto per lui accenderemo una cosa per te oh no oh no dai dark accenderemo qualcosa per te dai fuoco a qualcosa porco dio fammi accenderemo porco dio non ce l'ho davvero sei discreto porco dio ma di che? porco di sembra che stai banando la mazurka inglese ripresa aerea sei per te oh zi come come? uno si mette davanti seduto e tu con la macchina spettacolare ma non è bello regni e uno si mette qua mi si bozza se guarda le manate porco dio pare che si è bruciato uno che si è venuto in culo sei porco dio insomma non resiste infatti no infatti lui si deve sedere no non lo so ah se lo siete di dire? dai per cui dio su video sta dura troppo salutate che poi le fai un altro ciao dark salutate arfio porco dio ciao arfio vi viene manifestato tutti noi ma stai manifestando ma stai manifestando? se il minimo se il minimo sarà a Letchworth si sarà manifestata la lanciamusa insomma il Deppi non ci sarebbe tutti che ti dica che ti dica deve sono più se la è tu ma ti ammolissimi proe zio con queste scarpe originali per le vedeo queste scarpe insomma ma provo Dio pregna ma che c'è la razza delle scarpe la guazza scate molto sincera porco Dio si vede porco Dio dai io però ancora adesso perchè forse si vede avvicinandoti insomma non caderei Si è atletico Insomma al minimo non stai a vomitare Che bello questo Spè 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 Faccio una inquadratura più ampia Vai Che sexy Ancora Guarda sti bellocci Che Sembrano fratelli Col buio sembrano due capelloni uguali Fratellini Insomma lui non è diventato famoso su un cartello a casa Porco dio Sì insomma lui non è diventato famoso Con lo cartello della Roma Porco dio Batman porco dio Insomma sarà corto Superman Insomma sarà corto porco dio Che sembra che lo stai a pia al culo Che sembra un pespignano Non siamo pespignano Che rendi sto Non compie coglioni a me Perché arrivi a loro porco dio Sì Ma non arrivi a più nessuno perché lo finimo Visto che Dai bella Torniamo tutti Tornata Tornata Dai se beccamo dopo Bella Dai saluta Faremo una cosa casuale adesso Sembra che stai a sbagliare il fumo Ciao a tutti Morite